buongiorno a tutti anzi dovrei dire buonanotte comunque fa niente perché come dico sempre questo video però devo dire che ci mettono poco ai criceti ultimamente sono rapidi si vede che sono finite anche per loro le vacanze si danno una mossa comunque stavo dicendo video post diretta del gigione quindi andiamo subito a mostrare la magliettina che non è nuova è un regalo che mi fece tempo fa una mia amica ci sono un po di simboli di squadroni del presumo della seconda guerra mondiale per la force army army for air force ci sono un po di simboli un po di scrittine spero che si riescano a vedere e sarà difficile penso che sia impossibile riuscire a leggere quello che c'è scritto qua è una vecchissima maglietta ormai ce l'ho da anni e anni e anni e anni però a regolo si è tenuta ancora decentemente purtroppo pensavo di averne acquistate quattro di magliettine con le scrittine invece erano solo tre sono andato a rivedere l'ordine che ho fatto l'anno scorso poi non le ho utilizzate le ho detto le tengo buone per l'anno successivo infatti le ho utilizzate in questo momento veniamo appunto alle notizie del gigione la rubrica devo dire che stavolta è una notizia bella 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 e brutta bella e brutta brutta prima ma bella per l'esito finale è un po lunghina ma fa niente perché ci tenevo particolarmente bambino affetto da coronavirus e leucemia trappianto riuscito ora il piccolo è salvo l'intervento al bambin gesù di roma il bambino affetto da leucemia linfoblastica acuta si è ammalato di covid con tutta la famiglia il trattamento con plasma iperimmone lo ha fatto negativizzare poi il trappianto di staminali dal papà ora sta bene trappianto di midollo riuscito all'ospedale pediatrico appunto bambin gesù per un bambino di sei anni affetto dall'eucemia linfoblastica acuta e che nel mese di marzo era risultato positivo al nuovo coronavirus con tutta la famiglia mamma e papà per favorire l'eliminazione del virus il bambino era stato ricoverato al centro covid di palidoro e sottoposto in via compassionevole al trattamento con plasma ottenuto da un soggetto guarito dall'infezione virale una volta negativizzato è stato possibile eseguire l'atteso trappianto con le cellule salminali emopoietiche prelevate dal papà anche lui nel frattempo guarito dal virus ora il bambino sta bene non ha avuto complicanze e verrà sottoposto ai normali controlli post trappianto da londra a roma per curare la leucemia poi tutta la famiglia positiva al covid questa la sua storia nell'ottobre 2019 la famiglia arriva in italia da londra dove risiede per curare al bambino gesù una recidiva della malattia da cui il piccolo affetto appunto la leucemia linfoblastica acuta è necessario un trappianto di midollo e l'equip del dipartimento di oncheomatologia e terapia cellulare e genica dal via al programma di terapia preparatorie il bambino viene sottoposto a chemio e immunoterapia per abbassare la carica della malattia sino alla soglia che consente al trappianto di avere le migliori probabilità di successo ovvero di guarire definitivamente dalla leucemia nel corso dei mesi durante i quali si alternano assistenza a domicilio e trattamenti in ospedali le cure producono l'effetto sperato e si avvicina al momento del trappianto non avendo trovato un donatore compatibile si decide di procedere con il trappianto di cellule staminale e emopoietiche da genitore poi la doccia fredda per il piccolo paziente di sei anni a marzo 2020 in piena pandemia i genitori del bambino vengono sottoposti alle indagini necessarie per stabilire quale sarà il candidato alla donazione di midollo nella serie di esami è previsto anche lo screening per il covid 19 bambini e genitori risultano positivi al test papà e figlio sono asintomatici la mamma con lievi sintomi paucisintomatica per procedere con il trappianto bisogna però attendere che tutti siano negativi in particolare il piccolo paziente che ha le difese immunitarie già compromesse dalla leucemia al tempo stesso è necessario rispettare il programma di intervento per scongiurare una nuova recidiva del tumore il trattamento con plasma iperimmune il trappianto di midollo da genitore vediamo che cosa è successo per dare al bambino delle armi in più per eliminare il virus e per ridurre il rischio di complicanze indotte appunto dall'infezione virale mettendo in circolo una carica di anticorpi forti si opta per l'infusione di plasma iperimmune ottenuta l'autorizzazione per uso compassionevole dal comitato etico del bambino Gesù e nulla osta del centro regionale sangue il trattamento viene effettuato il 9 maggio nel centro covid di palidoro dove il piccolo era stato ricoverato in via precauzionale il trattamento è stato reso possibile grazie alla collaborazione sviluppata con l'ospedale spallanzani per il reclutamento del donatore di plasma con il migliore titolo di anticorpi neutralizzanti cioè in grado di prevenire il legame di proteina spike di SARS-CoV-2 al suo recettore presente sulla cellula mana e l'ospedale san camillo per la raccolta del plasma tramite aferesi in attivazione procedura con cui vengono bloccati gli eventuali patogeni presenti e poi il congelamento nel frattempo anche il papà del bambino donatore di modollo prescelto risulta finalmente negativo al tampone tutto è pronto per procedere con gli ultimi controlli prima del trapianto il 29 maggio nella sede del bambino Gesù del Gianicolo a Roma al bambino vengono infuse le cellule staminali del papà appositamente manipolate per eliminare gli infuciti T alfa beta più cellule pericolose per l'organismo del ricevente si tratta della tecnica messa a punto dall'equip del professor franco locatelli direttore del dipartimento di oncoematologia e terapia cellulare genica e sviluppata nell'ospedale pediatrico della santa sede con la più ampia casistica al mondo circa 700 i trapianti da genitore effettuati sino ad oggi su bambini affetti da leucemia e tumori del sangue il piccolo ora è in ottime condizioni generali non ha avuto complicanze post trapianto le cellule del papà si stanno moltiplicando e si avvia verso la guarigione completa con le metodiche di manipolazione cellulare attualmente disponibili la percentuale di guarigione con il trapianto di midollo da uno dei due genitori è soffrabbonibile a quella ottenuta utilizzando un odatore perfettamente idoneo questo caso è la dimostrazione comunemente al professor franco locatelli direttore del dipartimento eccetera eccetera e professore di pediatria alla sapienza università di roma di come la collaborazione tra centi di eccellenza presenti nella regione lazio improntata allo scrupoloso rispetto delle corrette procedure cliniche scientifiche consenta di ottenere le risposte più efficaci per i pazienti anche in tempi di pandemia voglio ringraziare personalmente i colleghi dell'ospedale spallanzani in particolare il professor giuseppe ippolito e i colleghi del suo ospedale san camillo con cui abbiamo il piacere di condividere questo risultato positivo ecco noi togliamo posti alla nostra sanità e c'è noi i fessacchiotti e nonostante questo la nostra sanità il mi guarda è stato considerato uno degli spedali migliori del mondo il bambin gesù collegato con lo spallanzani e collegato con san camillo hanno fatto quello che hanno fatto quindi signori miei in italia si lavora bene se si è persone per bene e che lavorano con coscienza e questo è un classico esempio non aggiungo altro perché sennò mi sale anzi mi girano i testi veniamo a questa notizia curiosa dopo una bella notiziona così così libidine perché quando un bambino viene salvato da qualche brutta malattia è sempre una festa è una gioia veniamo a questa notizia curiosa troppe armi negli stati uniti cambio di rotta nei lunitun il cacciatore di bass banni non avrà più il fucile niente più armi da fuoco nei cartoni dei lunitun per la nuova serie lunitun cartoons in onda su hbo max il servizio streaming dell'americana hbo il cacciatore taddeo conosciuto in america come elmer food o fad e il pistolero yo smite sam daranno la caccia bass banni senza il fucile e le pistole taddeo il cacciatore antagonista dell'irriverente coniglio dal 1933 7 ora usa una falce una scelta della produzione in risposta agli episodi di violenza armata che ci sono negli stati uniti sebbene nella nuova edizione non manchino dinamite incudine e cannoni cioè veramente io non ho veramente parole qua siamo sempre al peggio tra un po' diranno che non è colpa di chi spara ma della pistola e manderanno alla sedia elettrica la pistola signori miei lermi ci sono sempre state si sono evolute negli anni ci sono i documentari di history che fanno vedere le evoluzioni delle armi e quant'altro la questione è che le armi vanno usate con questa purtroppo le usiamo a sproposito nel bene e nel male e soprattutto nel male ma anche nel bene per eliminare il male e quindi non è colpa di queste cose qua se la gente si comportasse bene e tutti si accontentassero di quello che hanno ma siccome la gente non si accontenta la gente non è giusto quello li guadagna così li porto via tutti così divento ricco anch'io bisogna sapersi accontentare invece non ci si riesce qualcuno mi dice giustamente Gigi perché tu qua lascio giù signori ognuno purtroppo c'è chi nasce ricco chi nasce povero chi nasce bello chi nasce figo chi nasce male chi nasce bene quello che ci capita nella vita quando giri la ruota della della vita no giri la ruota un po la fantozzi fantozzi rinasce gli dice che bello adesso rigiro la ruota e rinasce ancora fantozzi quindi ognuno gli capita quello che gli capita e deve cercare di accontentarsi cercare di comportarsi bene come dico sempre io mi comporto bene se gli altri si comportano male sono affari loro io non voglio avere niente sulla coscienza quando mi guardo allo specchio mi sento una bella persona dentro mi accontento fuori purtroppo sono venuto fuori così non è che posso dare la colpa a nessuno non penso che mia mamma mio papà mi volevano senza capelli eccetera purtroppo è successo mi accontento detto questo io vi saluto vi ringrazio scusate la la cosa finale e ci vediamo ai prossimi video ciao